Per cinque giorni dal 13 al 18 agosto il centro sportivo Le Naadi di Pescara ospiterà Swing on the Beach Roberta Bevilacqua, organizzatrice di questo evento. Cosa vedremo per cinque giorni qui a Le Naadi? Vedremo gruppi musicali provenienti da diversi paesi dell'Europa. Un gruppo musicale che arriva dalla Spagna, un gruppo musicale che arriva dall'Inghilterra, da Manchester. Sono gruppi musicali in esclusiva per noi dello Swing on the Beach. Sarà un evento da non perdere dedicato allo Swing a 360 gradi con workshop, con bands e un evento che darà sicuramente rilievo a tutta la realtà territoriale e anche nazionale di questo ballo e di questo stile musicale. Partecipazione illustre a Swing on the Beach a Pescara di Antonella Elia che canterà ma non solo. Beh, canterò e già e tanto. No, nel senso non solo perché non faccio altro, non mi esibisco, non faccio burlesque. Canto Swing con il maestro Carlo Capobianchi e per me è un grande onore essere qui a questo festival. È il mio primo festival Swing della vita. Vabbè, no, abbiamo fatto un concerto con Carlo alla Niene Jazz Festival, però era un jazz festival. Qui proprio si balla dalla mattina alla sera, giorno e notte e ci avrò la sfida con Roberta. Due grandi orchestre che si sfideranno e immagino centinaia, migliaia di ballerini che balleranno al suono della nostra musica, col nostro canto suave. Vorrei concludere dicendo, it don't mean a thing if you ain't got that swing, that's jazz. Yeah!